Le scuole sono minsofferenza, le scuole comunali in modo particolare perché abbiamo avuto un deflusso di insegnanti anche dopo le assunzioni a tempo determinato che sono state fatte a settembre molto forte. In parte legato a temi giusti, insomma voglio dire, da diritti dei lavoratori, quali le maternità, in parte legate alle opzioni che alcune delle nostre insegnanti ed educatrici hanno fatto per lo Stato, in parte ancora dalle difficoltà che si sono manifestate con dei pensionamenti non previsti inizialmente. Noi chiediamo all'amministrazione per le nuove assunzioni al Comune di Napoli di educatrice e di maestre nelle scuole comunali di attingere anche dalla graduatoria per il tempo determinato anche per le cosiddette pregare storiche, ovvero della graduatoria riservata e di chiedere al Ministero chiaramente su questo se è possibile perché a nostro avviso i bambini hanno bisogno di educatrice e di maestre e dobbiamo attingere dovunque. Per il 2018 abbiamo chiesto l'autorizzazione a coprire le insegnanti di asilo nido e di scuola dell'infanzia che hanno optato per un altro ruolo. Per quanto riguarda il 2019 stiamo passando al tempo indeterminato, noi abbiamo chiesto al Governo di predisporre in legge di bilancio la proroga delle graduatorie Formez, il fatto che in legge di bilancio venga eliminata la sanzione di 85 milioni che la Corte dei Conti, sezioni riunite ha combinato il Comune di Napoli sui temi CR8 ampiamente risolti alcuni mesi fa, ci consentirà quindi nel 2019 di poter fare finalmente una stagione di nomine a tempo indeterminato perché ne abbiamo bisogno nelle scuole e in tutti gli uffici del Comune. Ci aspettiamo il doppio delle assunzioni per quanto riguarda il tempo indeterminato, lo scorrimento di tutte le graduatorie, quindi riservata e quella del concorso pubblico e anche un chiarimento anche da parte dell'amministrazione con i sindacati e tutti per quanto riguarda il personale, immagino di Napoli Servizi, ex Napoli Sociale, per quanto riguarda la pulizia appunto dei bambini. Noi abbiamo bisogno di scuole che funzionino e di servizi veri e aperti a tutti. Non è che il Comune non vuole assumere queste persone, il Comune purtroppo ogni volta che fa un'assunzione per fare un'assunzione inizia un iter burocratico pazzesco, di cui è solo parzialmente padrone. Noi abbiamo deliberato per esempio per 26 ulteriori unità che sono necessarie e che sostituirebbero quelle che sono andate via. Ma naturalmente questo significa che poi dopo la delibera ci vuole il controllo dei revisori dei conti, ci vuole il controllo della Commissione interministeriale, ci vuole il controllo del bilancio consolidato. Vincoli eccessivi per servizi essenziali, ma sono vincoli che purtroppo subiamo e ai quali reagiamo con atti politici di indirizzo forti che non finiremo di fare fin quando saremo qui. Perché siamo convinti che il legame tra la città di Napoli e la scuola pubblica è un legame speciale.